Musica Giovedì 20 ottobre 2016 a Salerno, 350 architetti hanno partecipato al convegno Il futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Numerose le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Vediamo le interviste. Oggi abbiamo esposto agli architetti tutta una serie di dispositivi che fino a ieri non conoscevano, ma che oggi possono adottare e quindi far scegliere i loro clienti. Il concetto di Obo è proprio questo, rendersi il più minimalista possibile. La soluzione che abbiamo fatto conoscere agli architetti è il canale sotto pavimento KB, che può essere completamente rivestito con il pavimento che hanno scelto precedentemente. La soluzione che abbiamo fatto conoscere agli architetti è il canale sotto pavimento KB. La soluzione che abbiamo fatto conoscere agli architetti è il canale sotto pavimento KB. Questa è la soluzione che abbiamo fatto conoscere agli architetti. La soluzione che abbiamo fatto conoscere agli architetti è il canale sotto pavimento KB.